La telecivita vecchia SCARL Il titolare della impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale denominata TRC Telecivita Vecchia informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco di Civita Vecchia dei giorni 23 e 24 giugno 2024. A tal fine informa altre sì che sul proprio sito web www.trcgiornale.it presso la propria sede ubicata in Civita Vecchia, via Felice e Guglielmi, numero 26, indirizzo di posta elettronica certificata Telecivita Vecchia, chiocciolapec.it, numero telefonico 0766 24 820 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente. Le condizioni temporali di prenotazione per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati. Le modalità di prenotazione dei suddetti spazi. Le tariffe d'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla Telecivita Vecchia SCARL. Ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Grazie. 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 Grazie.